In battuta da tre turni consecutivi e senza gol al passivo, Lisernia torna a Lancellotta per la sfida al Teramo, che ha due lunghezze di ritardo in classifica e che si è sbloccata in campionato lo scorso turno, grazie all'1-0 interno sull'Avezzano. Prima dell'inizio delle ostilità premiato dalla società di Patron Traishi, l'attaccante Vincent Tawa, ex di entrambe le piazze, due campionati vinti per lui con la casacca bianco-celeste in Serie D nella storica stagione 2002-2003 e nell'annata calcistica 2010-2011 nel torneo d'eccellenza con annesso il trofeo tricolore. Arbitra il signor Bini della sezione di Macerata, 5.40 ed è subito episodio in aria pentra, De Gidio si accarezza il pallone sul destro, trova Baba sulla strada della conclusione che chiude regolarmente secondo l'arbitro. Alla dodicesimo l'altra parte del campo, il piazzato è di Cascio e la presa sicura di Di Giorgio. Alla sedicesimo la punizione è defilata di Pietrantonio e nessun brivido per Cocchiarella, minuto 21 da esposito a Pavone, quest'ultimo a fallire sotto misura. Alla ventiquattresimo Antenucci si lascia ingolosire dalla conclusione, fa bene a provarla perché infila il pallone dove Di Giorgio non può arrivare ed è 1-0 per il delirio dell'Ancellotta. Alla ventottesimo Biancorossi che non ci stanno e si riversano in avanti il colpo di testa di Galesio, però è fuori bersaglio la trentaduesimo. Ghimenez sulla corsa, non tiene bassa la mira, locali che vanificano il vantaggio nel giro di tre minuti. Alla trentaquattresimo De Gidio sul lato cortodestro, Ghimenez lo ferma fallosamente dal dischetto Luis Fabian Galesio. Spiazza Cocchiarella per l'1-1, al trentasettesimo ancora protagonista l'ex FC Matese, Aquila e Pompei. Sull'errore di Baba confeziona l'assist per Pavone, che deve solo spingere in rete il punto dell'1-2. Al quarantesimo De Filippo, gran botta la sua. Eddi Giorgio alza in corner, mentre al quarantaseiesimo infuriato Galesio sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Va a fare ancora la voce grossa sul secondo palo e Terramani, che chiudono la prima frazione di gioco sull'1-3. Secondo tempo, minuto numero 12, Cascio dal limite all'esterno con il sinistro, che finisce alto. Al quattordicesimo, Abruzzesi a campo largo con Pavone, che fugge sulla destra. Disegna per Degidio, elegante nell'aggancio, un po' meno nella battuta a rete. Si salva Lisernia, che chiede un penalty intorno al ventesimo, senza essere accontentata per la chiusura di Brugarello su De Filippo. Alla trentacinquesimo, i locali con un pallone in aria a tagliare, in ritardo nella circostanza. Varela ed il neo entrato Bainotto. Minuto quaranta, il neo entrato Touré salta secco Cocchiarella, ma salva Ghimenez poco prima della linea di porta. Il poker è soltanto rinviato al novantaquattresimo, lo stesso numero 11, dopo lo spunto di Galesio al suo secondo assist di giornata. Va a fissare il definitivo sull'1-4, che sancisce la seconda vittoria di fila per il Teramo, che scavalca in classifica proprio Lisernia, attesa ora dalla trasferta di Chieti. Sì, mister, seconda vittoria di fila, proprio quello che ci voleva per affrontare il trittico che vi attende, ma maggiore efficienza, soprattutto nel reparto avanzato, forse quello che era mancato nelle prime giornate, dove comunque la prestazione c'era stata. Sì, sì, è vero, è giustissimo. Le prestazioni, al di là dei risultati negativi, le prestazioni sono state, però oggi veramente i ragazzi sono stati perfetti. Al di là delle prossime partite da affrontare, noi dobbiamo essere bravi a lavorare partita dopo partita, perché vedete che ogni domenica ci sono sempre dei risultati a sorpresa, nessun risultato scontato. Quindi le partite te le devi giocare, dal primo fino all'ultimo minuto. Non devi mai sottovalutare l'avversario, devi sempre rispettare e giocare sempre al massimo dell'intensità e della cattiveria. Sì, ricordiamo che eravate anche orfani di un difensore come Pepe, ho approfittato per scambiare qualche battuta con lui all'intervallo e rimarcava proprio questa questione. Sì, sì, ma noi, ti dico, sono tre mesi che lavoriamo bene, i ragazzi lavorano benissimo. C'è stato un periodo negativo dal punto di vista dei risultati, non delle prestazioni. È normale che una volta che vinci poi ti sblocchi pure mentalmente e ti viene più fiducia. Quando non vinci vuol dire un po' di sfiducia sale, perché giustamente non credi nei tuoi mezzi, invece noi ripetendo le partite, tutte le partite le ripeti, capisci veramente che fai bene, però, ripeto, non bisogna mollare. Secondo me questa squadra ha un po' immagini di miglioramento, devi migliorare tanto dal punto di vista difensivo e dal punto di vista offensivo, perché è formata questa squadra, ma al di là di Pepe, di Ciccio Sposo, di Luisigalesio, è formata veramente da giovani veramente forti, con poche esperienze in Serie D, però che veramente hanno un futuro importante dalla loro parte. Mister Farrocco per Lisernia, seconda sconfitta in campionato, forse severa nel definitivo, è arrivato il vantaggio, poi da rivedere sicuramente qualcosa intorno al finire della prima frazione di gioco. Sì, vabbè, te l'abbiamo meritato di vincere la partita, noi avevamo trovato il gol, anche se non stavamo facendo bene. Tutti i duelli li vincevano loro, un po' fisicamente forse li abbiamo sofferti, loro sono una squadra esperta, hanno gente di categoria, e certo, poi è un campionato dove gli episodi contano, purtroppo siamo stati un po' disatteni dopo il gol, c'era un po' di scoramento, però non possiamo permetterci poi di regare la partita in quella maniera, dobbiamo stare compatti, aspettare che passi il momento e poi reagire. Grazie.